Un episodio interessante che coinvolge per l'appunto anche una questione di stampo filosofico o morale sul tema appunto della giustizia è probabilmente l'episodio che avviene all'interno descritto dall'anabasi di Ariano fondamentalmente dall'anabasi di Alessandro Magno l'episodio tra Alessandro e un suo amico Clito. Ecco i due cominciano dopo appunto un certo tipo di anabasi che Alessandro aveva attuato cioè era stato fatto appunto questo percorso da parte di Alessandro dalla Grecia fino poi anche a sconfiggere Dario nel 331 avanti Cristo ecco poco dopo l'avvenimento della battaglia di Gaugamela viene questo tipo di banchetto in onore di Dioniso che coinvolge appunto poi Alessandro i suoi commilitoni i suoi generali in particolar modo anche coinvolge Alessandro e Clito. La questione interessante probabilmente perché sembra sulla base anche di Ariano ma dell'interpretazione che Ariano dice Clito potrebbe aver fatto nei confronti di Alessandro Clito comincia a condannare o comunque criticare Alessandro probabilmente per il fatto che Alessandro aveva cominciato sempre più ad assumere costumi di stampo barbaro. La questione interessante probabilmente perché Alessandro è vero che aveva attuato una spedizione sempre più di stampo imperialista però è anche vero che aveva sposato una donna barbara persiana e poi d'altro canto aveva cercato di far sposare i suoi commilitoni con gente barbara o pure aveva cercato anche di far intendere ai suoi generali i suoi commilitoni la cultura barbara. Ecco in certo qual modo quindi la situazione comincia a degenerare probabilmente perché Ariano spiega che Alessandro insieme ai suoi generali i suoi amici cominciano a bere e quindi ad ubriacarsi e la situazione quindi comincia piano piano a divenire sempre più complicata probabilmente perché Clito comincia quindi a criticare Alessandro e Alessandro comincia anche gli ubriaco come Clito a prendersi a essere preso dall'ira. Ecco il tema dell'ira Ariano lo sviluppa esemplificandoli in relazione al tema dell'ubriacchezza. Infatti una critica che Ariano fa ad Alessandro è che comincia a essere coinvolto tanto quanto come i suoi commilitoni suoi generali e gli stesso dentro l'ira e dentro l'ubriacchezza. E' chiaro che questo è un altro punto Alessandro sicuramente al di là del fatto che partecipò a tantissime battaglie al di là del fatto che voleva essere simulare di essere figlio di Zeus all'interno delle sue campagne è chiaro che riuscendo a conquistare tantissime realtà politiche diverse e disparate soprattutto barbare ma all'inizio anche greche o comunque riuscendo in certo qual modo ad assumere su di sé il senso di una guida per i greci riuscì ad assumere diversi tipi di ricchezze tale per cui è chiaro che era una persona comunque era un re che chiaramente faceva spesso questi tipi di banchetti è chiaro che molto probabilmente tendeva spesso ad ubriacarsi però Ariano in questo senso tende poi a sviluppare una critica anche se vogliamo più o meno in diretta inteso però anche come diretta Ariano lo specifica bene nell'anabasi come comportamento di Alessandro che facendosi prendere dall'ira all'interno tuttavia di uno stato di ubriachezza amminaccia il suo senso di saggezza reale questo è interessante perché poi all'interno dell'esplicazione della proposizione di Clito inteso come Alessandro sta perdendo il suo senso ellenico di base e sta diventando sempre più il suo stesso barbaro quindi si sta allontanando da un senso puro del greco classico ecco che Alessandro comincia a rinervosirsi e piano piano si dice Ariano i commilitoni di Alessandro i generali di Alessandro gli amici di Alessandro provano a trattenere Alessandro contro Clito ma non ce la fanno e a un certo punto Alessandro uccide Clito Clito che tra l'altro sembra l'aveva anche salvato in una battaglia precedente della stessa anabasi cioè della stessa spedizione di Alessandro la questione interessante probabilmente perché Alessandro comincia a disperarsi tantissimo dopo aver ucciso Clito ovvero sia è chiaro che Ariano dice Alessandro si fece prendere appunto dalla cosiddetta ira in relazione all'ubriachezza e questo lo portò in certo qual modo a non concepire più un senso di giustizia intesa come reattività del buon sovrano e pertanto Alessandro minacciato in certo qual modo da un certo tipo di impossibilità nell'autocontrollo ecco che in certo qual modo decise di scaraventarsi contro Clito ecco la critica che Ariano fa in primo luogo questa cioè l'idea che Alessandro fin dall'inizio poteva evitare di bere per evitare in certo qual modo di conciliare l'ira con l'ubriachezza d'altro canto poi arriverà successivamente anche dopo che Alessandro aveva uccidere a Clito e comincerà a disperarsi per diversi giorni non mangiando più o mangiando male eccetera comincerà ad arrivare nei suoi confronti poi verso di lui un sofista di nome Anassarco questo sofista dirà ad Alessandro che non dovrà preoccuparsi e probabilmente perché in verità tutto ciò che il sovrano fa lo vuole Zeus in quanto Alessandro stesso è propriamente in certo qual modo secondo la credenza comune figlio di Zeus comunque sia era colui che era passato da Ammone cioè dal senso del sacerdote dal senso dell'oracolo specificatamente di Zeus Ammone perché Alessandro d'altro canto egli stesso si credeva figlio di Zeus molto probabilmente molto probabilmente si portava dietro anche nelle sue spedizioni spesso di Iriade voleva in certo qual modo simulare anche di essere semidio cercherò di capire chi fosse Achille per simulare meglio questo semidio ecco all'interno delle parole di Anassarco è interessante notare come quando Anassarco dice tutto ciò che in realtà attenzione il sovrano fa è giusto è chiaro che allora tu Alessandro hai fatto bene uccidere Clito inteso come è vero che tu hai ucciso Clito e adesso ci stai male ma tutto ciò che il sovrano fa è giusto in quanto ciò che il sovrano fa lo vuole Zeus lo vuole la divinità e quindi tu essendo figlio di Zeus non hai altro che compiuto la giustizia e da qui arriverà tuttavia la critica di Ariano in modo specifico rispetto alle parole del sofista che poi in realtà si può rileggere all'interno anche degli insegnamenti di Aristotele molto probabilmente dati ad Alessandro perché? perché in realtà Anassarco esemplifica un'idea di giustizia che è proprio in realtà del monopolio del sovrano non già un'idea di giusto oggettivo che sia svincolata e sciolta dall'idea del sovrano e pertanto non monopolizzata dall'idea del sovrano le parole di Anassarco dicono non ti preoccupare Alessandro per quanto tu ci stia male in realtà tu hai attuato un'azione giusta in quanto è proprio del sovrano fare azioni giuste perché il sovrano è riconosciuto dalla divinità in certo qual modo se non personifica la divinità come Alessandro tuttavia personifica un certo tipo di semidivinità che è propria della divinità in se stessa quindi in realtà tu non ti devi preoccupare tu sei personificazione della stessa giustizia in quanto volontà di Zeus Ariano esemplifica invece l'idea che Anassarco sbaglia nella rendicazione in questo modo ad Alessandro perché è vero che rincuora Alessandro però ad altro canto esemplifica una filosofia che è reietta cioè una filosofia che non tiene conto in verità del senso della buona oggettività morale intesa come esiste un giusto ed esiste il sovrano non è detto che il sovrano incarni il giusto, incarni il monopolio, incarni appunto la retta via da seguire ed ecco perché il sovrano giusto in verità dovrebbe seguire il giusto non già monopolizzare il giusto ed ecco perché in certo qual modo è come se Ariano dicesse che Alessandro si stava allontanando in certo senso dagli atteggiamenti e dagli insegnamenti di Aristotele che appunto si propose di assegnare Alessandro la retta via della buona educazione è chiaro che qui ci sono due argomenti principali l'idea chiaramente è che sicuramente c'è una critica che è volta contro Alessandro inteso come Alessandro vuole farci intendere i costumi barbari noi non vogliamo quindi che cos'è l'idea della giustizia in relazione a che cos'è il senso ellenico questo è un primo punto, è il primo argomento che si può esemplificare cioè l'argomento che Alessandro poteva secondo appunto i suoi amici da un punto di vista realista essere sempre più lontano dalla giustizia inteso come costui ci vuole insegnare dei costumi che noi non vogliamo apprendere d'altro canto poi cominciò a divenire naturale nel senso realista probabilmente della spedizione il fatto che i suoi comelitoni dovettero cominciare a fare e a relazionarsi o comunque naturalmente cominciarono a relazionarsi con i barbari anche perché erano spesso in relazione con costoro erano ormai molto lontani comunque dai territori greci o comunque ellenici capiamo bene quindi che la spedizione poi stava assumendo anche connotati molto importanti con diversi individui non solo soltanto generali che seguivano Alessandro ma anche donne, bambini, scienziati il secondo punto invece è più di stampo filosofico pratico cioè qui c'è un indice anche se vogliamo rileggerlo così questa può essere un'interpretazione anche di stampo platonico, aristodelico, giusto, naturalista cioè al di là dell'argomentazione realista e chiedersi cosa è realisticamente giusto cosa è realisticamente sbagliato sulla base dell'ideologia comune dei generali di Alessandro o di Alessandro stesso o dello stesso Clito nelle critiche di Alessandro si può cercare di individuare un indice gius naturalista in certo qual modo slegato dalla cultura inteso come qual è l'influenza che Alessandro stava sviluppando inteso come che cosa è giusto e sbagliato e se il giusto e lo sbagliato sono propri del sovrano, sono propri del suo monopolio in realtà questo tipo di atteggiamento appunto esemplificato da Anassarco è contraddittorio rispetto, comunque contraddice, gli insegnamenti di Platone che influenzarono lo stesso Aristotele perché Platone in verità esemplifica quell'atteggiamento dell'opposizione al monopolio proprio in verità del supporto di una morale oggettiva che cosa è che dice il supporto del monopolio? che in realtà ogni divinità detiene il suo potere ma detiene anche la sua giustizia in relazione a quel potere Anassarco dice specificatamente questo ad Alessandro la divinità ti giustifica in quanto tu sei figlio di Zeus se la divinità giustifica quel tipo di potere di cui tu fai parte ecco che quel potere che tu esemplifichi e applichi è il potere della giustizia del Dio quindi non c'è una giustizia oggettiva ma solo la giustizia di ogni Dio quindi Alessandro era ancora in fin dei conti all'interno di una mentalità di stampo politeista relegato appunto alla divinità di turno che desse un certo tipo di corroborazione e supporto del senso della giustizia d'altro canto invece il senso platonico e poi in certo qual modo anche aristotelico si sviluppava più dal punto di vista monista teologico, filosofico, istruttivo cioè dell'educazione propria dell'individuo che potesse poi cominciare a sviluppare una sua etica personale e in fin dei conti ecco perché Ariano critica Anassarco specificatamente perché dice che Anassarco in certo qual modo stava allontanando Alessandro secondo questa interpretazione attenzione che questo secondo argomento da un certo tipo di etica personale proprio ad Alessandro Magno cioè Alessandro Magno non stava tanto sviluppando un'etica personale ma stava più sviluppando un'etica relegata poi al senso delle divinità l'insegnamento di Platone e Aristoteli invece è ben diverso perché per esempio Platone dice specificatamente questo lo si vede bene nell'Eutifrone che la giustizia oggettiva è relegata a un senso di unica divinità non già a molte ma se Alessandro si ricrede figlio di Zeus si ricrede vivo in quel politeismo che in realtà vede Zeus immortale non eterno quindi Zeus non è produttore della vera giustizia anzi Zeus non coinvolge una giustizia oggettiva tale che sia e pertanto se si può considerare giusto il comportamento di Alessandro nel meandro di Zeus è considerabile soltanto giusto come giustizia con la G minuscola non già maiuscola cioè una giustizia che può essere dibattuta tra le diverse divinità la questione interessante è perché con l'indice gius naturalista cioè l'idea in verità che bisogna cercare un bene oggettivo per evadere da quel diritto del più forte che esemplifica Anassarco nei confronti di Alessandro e sembra Alessandro a un certo punto cogliere da parte di Anassarco cioè l'idea che anche Alessandro sia divenuto un certo tipo di individuo che stava attuando il diritto del più forte ecco perché Ariano critica Anassarco l'esemplificazione di Anassarco il consiglio di Anassarco è quel consiglio che in verità non cerca in certo qual modo di avvicinare a un certo tipo di etica personale di responsabilizzazione personale del sovrano inteso come in senso platonico la ricerca della luce, della fede, del sole, dell'uscita dalla caverna ma soltanto un sovrano che ripercuote una giustizia di una divinità in certo qual modo intesa così da Platone minore o intesa anche da Aristotele minore che non è relegata al primo motore immobile che non è relegata all'atto puro che non è relegata al pensiero di pensiero ma è solo in fin dei conti una potenza tra le tante potenze nella filosofia di Aristotele un insieme appunto di potenza che non potrà mai essere atto puro lo stesso Zeus in questo senso ecco quindi che nell'atteggiamento di Anassarco c'è il diritto del più forte perché manca l'etica oggettiva di stampo giusto naturalista in certo qual modo così verrà riletta nella modernità come indice di un'etica oggettiva propria del comportamento che possa poi sviluppare ciò che è giusto di per sé e ciò che fa il sovrano che può collegarsi a ciò che è giusto ma non è detto che sia giusto e in tal senso in fi dei conti se Anassarco avesse detto la verità allora tutto ciò che fa il sovrano non sarebbe giusto ma allora non esisterebbe più un'etica della giustizia di cui dibattere e quindi peraltro in Aristotele non avrebbero significato cioè la loro etica non avrebbe significato perché in fin dei conti non avrebbe senso parlare di etica già che tutto ciò che il sovrano fa è giusto ma l'etica esiste in quanto si può dibattere su ciò che è giusto oppure no o comunque sia anche da un punto di vista realista si può attuare questo cioè l'idea di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato si può sviluppare da un punto di vista economico da un punto di vista filosofico da un punto di vista pratico non è effettivamente vero che tutto ciò che decide il sovrano è giusto in quanto lo decide il sovrano si può dibattere si può discutere e quindi c'è un apporto filosofico Anassarco invece vuole allontanare anche da questo tipo di ambito del dibattito filosofico di base che può poi vedere anche il dibattito per l'appunto districarsi tra diversi punti di vista che non sono propri del sovrano questo in fin dei conti secondo Reano in certo qual modo ciò che Alessandro deve forse imparare e dovette forse imparare invece facendosi in quel periodo in quel momento uccidendo Clito traghettare dall'ira e dall'ubriachezza e poi in certo qual modo dal senso sofistico del cosiddetto Anassarco ciao